Ciao a tutti, nel video di oggi, è una domenica molto rilassante per i Ferragnez. Infatti Leo, si diverte in piscina con la Vitto e mamma Chiara. Si tratta, in realtà del primo bagnetto della piccola Vittoria. Vi lascio al video, buona visione. Oggi, da California Bakery, un pezzettino di Milano in Sardegna, al Pevero. Potete venire qui, farvi il vostro brunch, oppure ordinare e farete che vuoi, portarvi tutto a casa. Grazie a tutti, grazie a tutti.